andiamo tutti in diretto, mando tutti, mando tutti, whatsapp, mettiamo su whatsapp, aspetta un attimo, ok, 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 ci siamo ancora, ancora, non è vero perché c'è la live su youtube, non abbiamo proprio dormito, Fred è morto, si è addormentato, non subito, però verso le due e mezza si è addormentato ed è morto, io Jackster era un po' guardi, si stete, lo svegliavo, però ora online, ora ve lo chiamo, Manuè, Manuè, via, ti vogliono, no, no, via, Manuè, Manuè, Manuè l'ha morto, no, no, non è, Manuè, si è morto, vieni, Non morire, vieni. Aspetta che lo so. Ma questo andava per i piatti. No, non c'è, no, no, no. Ok. Venga qua. Maneggete. Vieni. Ma non è morto? Ma oggi andiamo in pasticceria. In pasticceria. No, non è morto. Ah? In chat. No, non è morto. Che io in diventé? Oh caro. Tu, 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 tu. Non c'è ne so? Niente. Non c'è ne so? T'hai visto i piedi in diretta. Eh. Ma sei buona, ma? No, ma spei. No. Non c'è nevo' tutta un'acqua. che lingua un po' molto stai a vedere stai guardando a te stai guardando a te stai guardando a te stai guardando a te vieni vieni che fa no non esito che ok no ok ecco faccio voglio non ci scala dì 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 adì la cosa più bella il mondo il cello il cello è un po' di più bella ragazze anche lì che è lì che si dice yes sono ancora le luci accese no così è meglio andiamo a trovare il coso giusto perfetto ma no non è la tua no 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 l'atto l'atto la l'atto la l'ordine nino, l'abas vai guarda